Grande successo per la serata di beneficenza organizzata dalla parrocchia di Santa Maria della Misericordia a Pacentro che si è tenuta nei giorni scorsi in Piazza del Popolo. L'evento, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, è stato l'occasione per raccogliere fondi a favore della parrocchia impegnata a far fronte al pagamento di una bolletta del gas di quasi 5.000 euro. Tra musica, cibo e convivialità, la serata è stata un momento di aggregazione e condivisione per tutta la comunità. Pacentrani e non, residenti e migranti rientrati per le feste estive, si sono ritrovati insieme per sostenere la parrocchia e godere di un momento di festa. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa serata, dichiarato il parroco Don Filiberto. Un ringraziamento sincero e fraterno al gruppo Caritas, alla Proloco, gli Alpini, ai ragazzi della comunità. Grazie al loro impegno e alla generosità dei partecipanti, siamo riusciti a raccogliere una somma importante che ci aiuterà a far fronte al pagamento della bolletta del gas. Si spera di raggiungere l'obiettivo prefissato, ancora si è lontani da raggiungerlo, ma confidiamo di farlo con l'aiuto di tutti perché questa raccolta a fondi proseguirà nei prossimi giorni. Confidiamo nella generosità della comunità, concluso il parroco, ogni contributo, anche piccolo, sarà prezioso per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo.